Perché diceva, sono i soldi della povera, con quei soldi si è costruita la casa solliera della sofferenza. E quando, capitò anche questo, non è che poi andò tutto a gonferire, quando alcuni impiegati, presi dalla moda, speriamo che non si faccia ancora, anziché lavorare, timbravano il tesserino e uscivano fuori a farsela passeggiata e quando riferirono questo fatto, padre Pio richiamò gli operai e disse, la vedete questa centolire, è stata l'offerta di una vecchietta e voi spregate i soldi non lavorando. E li cacciò fuori. Allora, cosa ci dice il profeta Isaia? Che la natura bisogna difenderla, svilupparla, ma non raccomandandosi solo all'opera di Dio, con le mani nostre, col sacrificio nostro, solo allora saremo bene noi, saranno bene la natura e Dio viene glorificato.